Memory Sharing è un progetto partecipato e dal basso di raccolta, condivisione e narrazione delle storie di una comunità. Tante storie minuscole che fanno la storia con la maiuscola. Memory Sharing funziona in tre fasi. La prima è la raccolta. Suotate i cassetti, soffitte e garage. Portateci foto, lettere, diari, cimeli, superotto. Raccontateci le vostre storie di famiglia e le vostre emozioni. Tutti invitati, grandi e piccini. Si sceglie un periodo o un tema. Si ribalta la città. Si raccolgono materiali e testimonianze. La seconda fase è la condivisione. Si condivide sul web, su piattaforme internazionali, facili e aperte. E si condivide di persona. Il laboratorio in cui anziani e ragazzi si incontrano e si scambiano saperi. I nonni portano foto e raccontano storie. I nipoti insegnano ai nonni a condividerle sul web. La terza fase è la narrazione. È il momento della creatività. Mostre, installazioni, concorsi, fotorimakes, percorsi multimediali, web doc, letture, teatro. Il film itinerante proiettato dalla cinebicicletta. Volumi, DVD, film, eventi. Costruisci insieme a noi la storia della tua città. Costruisci insieme a voi. Grazie.